No, no, dimmi che c'entra la dizione. No, no, mi sono sbagliato io. Dimmi il passo importante. Oh, dimmi sta cosa della dizione. Ma no, niente. Pensavo che andavi a fare una scuola di dizione perché mi pareva che avevo capito che poteva essere importante per il lavoro tuo. Ma perché, scusa? Io parlo benissimo. Mi madre dice che c'è una voce chiara e baritonale. Sì, sì, però c'è tutta sta cosa che magari deve agli impar le parole. Così poteva essere un modo... Vabbè, ma sti cazzi, dai, dimmi una cosa. Ma guarda, io non so di che stai a parlare. A me non mi risulta che qualcuno si sia mai lamentato di come parlo.